hanno lanciato UAB avanzato, siamo esposti guarda sto nampo attenzione UAB in rientro portato per fare rifornimento UAB nemico in volo Sì ma guarda che f***** lontana UAB nemico in volo Hanno lanciato un UAP avanti. Soldato nemico in arrivo. Così va bene. Soldato nemico in arrivo. Ostile in discesa nell'area. Occhio in alto. Ostile in discesa nell'area. Occhio in alto. Ostile in discesa nell'area. Occhio in alto. hanno lanciato nuova via ostile in discesa nell'aria occhio in alto